musica 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 Ecco, abbiamo 11 pacchi, signori, e startiamo subito. E' un po'... Non lo lucro, d'era. Ok, iniziamo male, perché già l'Ulo ce l'ho. C'ho quella epica. Vediamo un po'. Urgot, iniziamo con i champion. Altro pacco, dai. Katarina, e ce l'ho pure. Ah, io dammi col fucco del vero. Vieni Katarina, vabbè. Warwick, bisogna... Oh, bene, vedi, Warwick, ce l'ho, ma non ho un aspetto. Quindi già... E ci siamo. Un po' di avanti. Z-Land. Non è male come PG. Ppower qualcosa di... M Da-la-la-la-la-la-la-la-la-la OOOOOOOH! MekhaKaziks! Andiamo subito avanti, perché io... Quando ne trovo una leggendaria, subito dopo,uaryo Heaven. W need the fuck... W the fuck! Oddio... Oh, su. Ho subito la legenda, e prende l'altra. Prindeme. madonna raga mattò ultimi tre pacchi cassio per mitologico non mi piace no cassadin del fe... è bello questo figata questo aspetto ok ultimo pacco e poi facciamo una cosa oddio assurdo non ci credo bellissimo cioè progetto Yasuo signori bellissimo io c'ho Yasuo non c'ho il pro l'aspetto questa era vecchio allora ci si incantiamo l'uno tu pure perché tanto c'ho già un aspetto sull'uno anche se quello era epico però raga l'issambra ce l'ho già aspetto allora subito a potenziare il progetto Yasuo signori perché questo è il primo che deve venire subito a casa allora warwitch abbiamo detto che ci serve eeeh però voglio farebbero una roba ma magari mi capita un champion buono oddio calista ma ma 1 dai raga ce ne proviamo e io poi quando trovo sti champion da 6.3 che non ho no vabbè raga questo è il champion più corto è il più epico della storia che figata è allora ragazzi a me abbiamo detto che non mi piace vabbè ragazzi c'è assurdo assurdo a me faccio a warwitch va raga spero che vi vi sia piaciuto come se vi dovete mettere un like se vi volete uscire il canale eeeh in modo epico sto faccomando raga bella